Ciao ragazze, allora nuovo video, ho approfittato di questa stupenda giornata di sole milanese che la mattina entra nella mia stanza, quindi ho voluto fare un trucco molto colorato, forse perché mi manca l'estate, mi manca tanto l'estate, spero che, penso e spero che manchi anche a tutte voi perché non se ne può più questo tempo schifoso, mamma mia, e niente, è un trucco semplicissimo però secondo me ad effetto, volevo farvi conoscere una persona, eccola qui, la mia cana, come la chiamo io lei è Luna, saluta, ciao amici, ciao, ciao, stai seduta, stai seduta buona, brava, brava amore, brava lei è la mia cagnolina, ce l'ho dal 2004, è stupenda, la amo tantissimissimo e lei anche, vedete che proprio mi vuole bene tanto e niente, ve la faccio rivedere un altro secondo, no niente, è andata, non c'è più voglia adesso vi lascio veramente al tutorial, un bacione e alla prossima, ciao ciao allora, abbiamo già applicato la base, il solito Prime Potion mettiamo lo scotch, sempre molto laterale andiamo a prendere lo Long Lastic Stick Shadow in verde, questo è il numero 8 e lo mettiamo solo sulla palpebra mobile suoniamo sempre col dito ora prendiamo il verde, questo è l'altro ombretto che ho preso della collezione nuova della Kiko è il numero 4, è questo qua, molto bello anche lui, io amo i verdi, quindi lo usiamo sempre bagnato ne andiamo a prendere un pochino e lo andiamo a mettere sempre sulla palpebra mobile picchiettandolo perché bagnato è proprio bello intenso, ma proprio bello intenso ok adesso prendo una vecchia palette della Kiko che è questa qua e non ve la posso far vedere perché mi si è rotto un ombretto e se la giro rolla tutto inesorabilmente prendiamo un pennellino di questi da sfumatura andiamo a prendere un viola scuro ne prendiamo un po' e lo andiamo a mettere proprio sopra il verde scusate, se muovete la telecamera sono io, è colpa mia ho lo specchio, sto litigando con lo specchio qui sfumiamo bene il verde col viola a questo punto prendo un po' di viola un po' più chiaro che c'è sempre nella stessa palette e lo applico sopra così siccome non è tantissima la differenza tra uno e l'altro prendo poi questo viola qua che è più un fucsia sempre della palette della Essence ne prendo un goccino e lo metto proprio qua per fare distacco di colore in modo tale che si veda che su c'è un rosa un fucsia comunque più chiaro e che sia bello colorato piano piano, molto delicatamente poi prendo un pennello di questo genere fatto così quindi grosso vado a prendere un colore chiaro questo e lo metto sotto e lo metto sotto l'arcata in modo tale anche da andare a non avere una riganetta del rosa a questo punto prendo senza togliere lo scotch quindi tenendo bene attaccata l'ultima parte questo è un eyeliner liquido glitterato sul blu adesso non so se riuscite a vedere che è blu però è blu ve lo posso garantire ed è l'ultima collezione della Essence che l'ho trovata magicamente dall'OVS mi sono fermata ho comprato tutto praticamente uno è questo che si chiama Buddy Bear è il numero 03 poi ne ho un altro un altro eyeliner un verdino chiarino bello e poi ho comprato questa si chiama I Love Berlin l'ultima collezione questa si chiama Style Victim e ha questi colori qua che a mio parere sono molto belli prendiamo un po' di eyeliner blu e lo andiamo lo andiamo a mettere poi per andare a fare la linguetta questo proprio mi è venuto l'altro giorno mentre lo facevo mentre facevo il trucco usiamo direttamente lo scotch quindi seguiamo la linea dello scotch così a questo punto vado a togliere lo scotch con cautela anche perché c'è l'eyeliner fresco e vado a fare una riga di eyeliner anche sotto quindi attenzione perché questa operazione può bruciare un po' agli occhi soprattutto cioè io porto le lenti a contatto quindi per le persone che portano le lenti a contatto può essere un po' fastidiosa ok a questo punto prendo della collezione Love Berlin questo blu questo blu e lo andiamo a mettere con un pennellino angolato sotto sopra l'eyeliner per intensificare un attimo molto carino anche questo di trucco forse un po' più estivo però avevo voglia avevo voglia di colori veramente basta questi colori smorti poi prendiamo della palette della Kiko che non posso farvi vedere un giallo e lo mettiamo all'interno dell'occhio come ulteriore colore come se già non ce ne fossero a sufficienza prendiamo adesso il mascara olè fatto un altro danno scusatemi vado a metterlo sopra quello Borgogna della Yves Saint Laurent meglio di questo non ci sta niente che è anche colorato sotto vado a mettere sempre il mio della Yves Saint Laurent questo scovolino lo amo ok prendiamo un po' il top coat della Kiko per dargli più volume alle ciglia sempre i soliti passaggi ragazze quindi da qui in poi lo sapete ok mi sono dimenticata di fare una cosa giustamente all'interno dell'occhio ho messo una matita verde scuro questa qua è quella double matita occhi è la numero 6 la numero 6 ho notato una cosa di queste matite hanno il tappo che non sta nella sua cioè si stacca velocissimamente quindi che cosa è successo io ne avevo comprate tipo 3 4 di queste mettendole insieme gli altri trucchi si sono staccati i tappi infatti anche di questo si è staccato il tappo e una volta che si stacca il tappo la mina si asciuga queste matite sono scriventissime ma se lasciate senza tappo è finita è veramente finita si seccano e ciao non le recuperi più io ho dovuto estrarre la mina e metterla dall'altra parte pensate un po' che lavoro certosino che ho fatto quindi a questo punto prendiamo e inseriamo matita verde all'interno dell'occhio questo passaggio si dovrebbe fare prima ma mi sono dimenticata questa sono riuscita a salvare l'altra no anche perché non trovo più i tappi è fantastica questa cosa ok adesso mettiamo un pochino di correttore in stick sotto in questo modo lo mettete in maniera abbondante e poi andate a sfumarlo per andare a pulire un attimino la zona col dito col pennello insomma con quello che avete ok illuminante il solito illuminante di Kiko questo è il numero 6 è un rosino chiaro devo andare a prendere l'illuminante di Madina il bello è che la mia amica me l'ha comprato perché lei è andata a Milano mi ha detto vado da Madina e ho bisogno di qualcosa e gli ho detto guarda ho bisogno di questo dell'illuminante che avevamo comprato insieme me l'ha preso e non riesco ad andare a trovarla quindi adesso a breve tra i suoi impegni i miei impegni che sicuramente i suoi sono molto di più dei miei come blush uso questo di Kiko che è il numero 5 è un aranciato questo trucco mi piace da morire poi ho visto ho girato anche un po' su internet ho visto alcuni trucchi che mi piacciono a morire voglio provare a farli saprò mettiamo un color nude visto che abbiamo gli occhi così colorati questo è sempre il 92 di Kiko e poi il solito nude della Essence questo è il numero 1 pure beauty non ve l'ho mai detto adesso che ho trovato il nome ve lo dico perfetto questo è il trucco spero vi piaccia ve lo faccio sempre vedere da vicino spero che vi possa piacere come vi ho detto l'altra volta provate a farlo fatemi sapere perché sono curiosa vi ringrazio per i commenti che sono dolcissimi ragazze veramente un bacione grosso ciao ciao ciao